In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Carissimi fedeli, ben ritrovati per il commento al Vangelo della Domenica. Domenica prossima, e sarà la quindicesima, domenica dopo la Pentecoste, e il Vangelo, che leggeremo nella liturgia, è quello di San Luca, capitolo settimo, versetti dall'undici al sedici. In quel tempo Gesù si recava in una città chiamata Naim, e i Suoi discepoli, e una gran folla, facevano la strada con Lui. Come si avvicinò alla porta della città, ecco che trasportavano un morto, figlio unico di sua madre. E questa era vedova, e c'era con lei molta gente della città. E il Signore vedutala, ebbe pietà di lei, e le disse, non piangere più. Poi accostatosi, toccò la bara, i portatori si fermarono, ed egli disse, Giovinetto, a te dico, levati. E il morto si levò a sedere, e cominciò a parlare, e Gesù lo rese a sua madre. Tutti furono presi da timore, e glorificavano Dio, dicendo, Un grande profeta è sorto fra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Carissimi fedeli, questo episodio del figlio della vedova di Naim, è un episodio molto drammatico. Come viene descritto, è figlio unico di una madre vedova, è un giovinetto, è cioè un ragazzo, un ragazzo che si apre alla vita, ma nel momento stesso in cui si apre alla vita, viene stroncato dalla morte. Inoltre è un figlio unico, e sua madre è vedova. Sua madre dunque perde tutti gli affetti che aveva. L'affetto del marito, perché è vedova, ma anche l'affetto di questo figlio unico. Perde gli affetti della sua famiglia, perde anche il sostentamento e un futuro dignitoso. Quel ragazzo sarebbe cresciuto, l'avrebbe mantenuta, le avrebbe dato una nuora dei nipotini, e la sua vita avrebbe avuto di nuovo un senso e uno scopo, secondo la cultura ebraica del tempo. In questo modo veniva relegata, invece, nella categoria degli assistiti per carità, le vedove, appunto. Vedove senza figli. La situazione è veramente tragica. È presente tutta quanta la città, ma Gesù porta con sé i suoi discepoli, sta passando di lì con il corteo dei suoi discepoli, e con una grande folla. Quindi sono tante le persone che in questo momento stanno assistendo a quello che accade. Intanto il pianto di lei, il pianto di questa madre, che accarezza per l'ultima volta la salma del figlio. E Gesù è pieno di compassione, si fa incontro a lei, ecco, dice, e dice non piangere più. Poi accostato si toccò la bara. I portatori sono costretti a fermarsi, ecco quel gesto, il gesto del maestro fa sì che i portatori si fermino affinché il maestro possa manifestare la sua compassione, ecco, toccando anche quella bara. Ma è il tocco di Dio onnipotente su quella bara. Ebbene, Sant'Ambrogio ha visto in questa madre vedova che piange il figlio morto, ha visto l'immagine della Chiesa. La Chiesa che piange, piange i figli morti nel peccato mortale, ecco appunto, cioè quei figli battezzati, cresciuti all'interno della Chiesa che si perdono poi nei meandri del mondo, abbandonano il Signore, abbandonano la Chiesa, cadono nel peccato e purtroppo si avviano verso la perdizione eterna. La Chiesa come madre, è una madre che piange queste anime e però chiama, quindi invoca la presenza, la salvezza di Gesù. D'altra parte, si può vedere molto bene in questo brano, invece, come spiega anche Dondolindo Ruotolo, che Gesù, prevedendo il suo futuro, cioè la sua passione e le lacrime di Maria, a maggior ragione ha sentito compassione verso questa donna perché ha visto in lei quelle lacrime che Maria avrebbe versato per la sua morte. E perciò interviene, interviene con questo gesto. Tocca la bara, di solito in questi cortei e funebri il morto restava sopra alla bara, perciò visibile a tutti quanti, e dice al morto alzati, levati. E quello si alza, comincia a parlare. Ecco. E il Signore lo presenta a quella madre, sano e salvo. Il miracolo della risurrezione. Straordinario. E anche un... Possiamo sottolineare il fatto che nel Vangelo non è l'unico episodio in cui un giovane viene risuscitato. C'è anche la fanciulla talità cum, se vi ricordate. Fanciulla, io ti dico, alzati, aveva dodici anni quella fanciulla. Quindi la risurrezione restituisce le persone giovani. Non si tratta soltanto qui della risurrezione della carne, cioè una persona che da morte passa di nuovo alla vita. Ma il Signore ci vuole parlare anche della risurrezione dal peccato, dal peccato alla grazia. La grazia di Dio ti rende giovane nello spirito. Sei giovane nello spirito. Del resto, quando dalla grazia decadi nel peccato, è una giovinezza stroncata. Porta con sé il dramma di una giovinezza stroncata e delle lacrime e delle lacrime della Chiesa e delle lacrime di Maria. Di nuovo, invece, il tocco della grazia del Signore ci riporta a una giovinezza nello spirito. Ci riporta alla vita. Ecco, ascoltando questo brano non possiamo fare a meno che invocare l'aiuto del Signore, il soccorso del Signore per i tanti giovani che oggi si perdono purtroppo nel peccato. Anche figli di persone, di genitori cattolici, credenti, osservanti che però a nulla valgono per loro le raccomandazioni dei genitori e preferiscono le chimere che il mondo presenta a loro e si perdono purtroppo nel male. Ecco, ora resta soltanto la nostra preghiera, le nostre lacrime come le lacrime di Monica per il figlio Agostino affinché il Signore intervenga. Noi pensiamo che il Signore non resterà, non lascerà deluse le nostre preghiere e implorazioni come non lasciò deluse le lacrime di quella donna. Sialo dato Gesù Cristo in nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen.